Ben trovati nell'angolo dello sport. Pescara-Lugano 3 a 1, è stato un bell'allenamento per il Pescara che ha provato nel corso dei 90 minuti due formazioni diverse, quella del primo tempo e quella del secondo. Gli unici due giocatori che hanno disputato tutti i 90 minuti sono stati il portiere Fiorillo e Mancuso, l'esterno di attacco. Per Mancuso dobbiamo dire che è stato uno show, nel senso che ha giocato davvero bene, ha segnato due gol, ma si è fatto notare per una vivacità, una vitalità davvero notevole. Può darsi che si sia conquistato il posto per la partita di Foggia. A Foggia dovremmo giocare con Fiorillo in porta, va bene, questo è sicuro. Poi la linea di difesa Zampano, Coda, Perrotta e Mazzotta. A centrocampo potrebbero essere Valzania, Proietti e Brugman. E poi in attacco Baez che è andato bene, è piaciuto. Pettinari sicuramente il centrale e poi Mancuso come esterno di attacco. Per quanto riguarda il mercato ci sono ancora dei problemi per Pescara. Si continua con questa telenovella oramai di Embalo. Pescara insiste per averlo. A Palermo nicchiano un pochino anche perché Embalo lo vorrebbe il Brescia. C'è qualche altro club che lo vorrebbero. In definitiva sono diversi questi interventi, diversi da quelli del Pescara. Il Pescara vorrebbe un prestito, invece questi altri cioè per esempio il Brescia vorrebbero pagarlo in contanti e quindi credo che a questo punto per il Pescara Embalo è una porta semichiusa. Allora si dice che a questo punto il Pescara punterebbe su Falco. Però anche qui sono delle realtà diverse perché sul Falco ci sono sia il Brescia che il Parma. insomma il Brescia e il Parma che spesso capitano ad intralciare i percorsi del mercato del Pescara. Falco andrebbe bene. Falco è di proprietà del Bologna, sta giocando a Perugia, potrebbe arrivare e dare una mano, ma siamo ancora tra coloro che sono sospeso. Io ho proprio una mia impressione personale, adesso non vorrei che fosse una negatività, ma ho l'impressione che il Pescara non sta facendo un buon mercato invernale. Di solito si dice che il mercato invernale è di riparazione, noi non stiamo riparando niente, anzi a meno che il Pescara non si svegli in questi ultimi giorni di mercato, in questa ultima settimana di mercato, se dovesse rimanere così ha più indebolito la squadra rispetto all'estate piuttosto che rafforzarla. E poi c'è ancora sempre questo braccio di ferro tra l'allenatore che dice vorrei questi giocatori per poter fare il 4-3-3. La società non glieli dà, però ci sono sempre voci e della società e di persone vicine alla società che dicono questa squadra è forte e Zeman che dovrebbe cambiare modulo, ma siccome Zeman tutto potrà cambiare perché è modulo, allora vuol dire che qui sono dei matrimoni che stanno in sospeso e che potrebbero finire anche da un momento all'altro. Possiamo chiudere qui, un affettuoso abbraccio come sempre da Gianni Lussoso, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.